buongiorno e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con le video news di ricerca dell'osservatorio astronomico di palermo oggi mi trovo in un posto un po particolare perché come vedete alle mie spalle abbiamo installato uno dei nostri telescopi che al momento sta osservando il sole e questo per prepararci all'eclissi di sole parziale che sarà visibile 25 ottobre dall'italia ma veniamo a noi veniamo all'articolo che vogliamo discutere quest'oggi che vedete qui sotto la mia immagine è un articolo che si occupa dell'attività magnetica delle stelle e in particolare di come l'attività magnetica e il tempo di vita medio delle macchie in fotosfera diminuisce con l'età delle stelle questo articolo è realizzato da un team guidato dall'astronomo del nostro osservatorio jesus maldonado andiamo a capire un po il dettaglio di cosa stiamo parlando quando parliamo di attività magnetica se poco osserviamo il nostro sole ai raggi x e raggi ultravioletti non vediamo un sole omogeneo come quello a cui siamo abituati quando appunto osserviamo il sole nel nostro cielo ma vediamo un sole che è caratterizzato da delle regioni che sono particolarmente luminose chiamate regioni attive come quelle che vedete qui nell'immagine di lato queste regioni si manifestano poi in fotosfera con le macchie solari che vedete invece in basso un'immagine realizzata dall'altro col telescopio che c'è qui dietro di me ora le regioni attive e le macchie solari sono una manifestazione e l'interazione tra il campo magnetico delle stelle e il plasma stellare infatti le stelle e il nostro sono ovviamente la maggior parte delle stelle produce un suo campo magnetico grazie al moto delle particelle cariche al suo interno moto ordinato principalmente a causa della rotazione dei moti convettivi che sia che vengono all'interno delle stelle il capo magnetico si crea per moto di particelle l di cariche di cariche elettriche poi interagisce con le cariche elettriche cariche elettriche di cui è composto principalmente il plasma nelle stelle quindi non sorprende se nelle stelle esistono tutta una classe di fenomeni di natura magnetica che proprio nasce all'interazione fra campo magnetico e plasma stellare e questa attività magnetica in realtà è osservata a diminuire con l'età delle stelle questo perché l'intensità del campo magnetico diminuisce con l'età delle stelle ad esempio la luminosità ai raggi x anche perché questa anche questa conseguenza dell'interazione fra campo magnetico e plasma sia da diminuire a valori circa 10 alla 30 erga al secondo nel caso delle stelle più giovani che qui in questo grafico sono quelle della nebulosa di orione con circa un milione di anni di vita fino a valori che sono mille diecimila volte minori quando aveva a che fare con il nostro sole che ha circa 5 miliardi di anni di vita ora obiettivo dello studio realizzato dal team guidato da maldonado è appunto quello di realizzare di verificare se anche il tempo di vita medio delle macchie solari va a diminuire le macchie fotosfera scusate ma va a diminuire nel corso del tempo e per fare questo il team ha analizzato l'attività magnetica in 130 stelle che fanno parte del campione gaps con un'età che va da circa un milione di anni per caso nel caso delle stelle del toro che avete qui di fianco e a stelle invece con circa un miliardo di anni appartenenti all'ammasso stellare mgc 752 e per queste stelle il team ha analizzato gli spettri che appunto sono osservati insieme al programma gaps che forniscono diverse misure dell'attività magnetica delle stelle e più anche le curve di luce ossia una vala variazione la luminosità della stella nel corso del tempo ottenuta alle curve di luce realizzate invece la satellite tess che vedete invece qui a fianco quelle vedete sotto sono appunto delle curve di luce di stelle che appunto variano nel corso del tempo e la questa variabilità che vedete anche una certa periodicità può essere dovuta a fenomeni di natura magnetica o magari alla presenza di un pianeta che passa di fronte alla stella durante il suo orbitare appunto attorno alla stella una cosa importante che da queste curve di luce con dei metodi statistici un po piuttosto complicati è possibile anche ricavare il tempo di vita delle macchie solari delle macchie in fotosfera e il risultato di questo studio appunto è che tutti gli indicatori di attività magnetica delle stelle e il tempo di vita medio delle macchie fotosferiche va a diminuire nel corso del tempo quello che avete ad esempio nel grafico in alto a sinistra è appunto un grafico che mostra come il tempo di vita medio diminuisce dalle stelle più giovani dove viene osservato un tempo di vita di circa 300 giorni mediamente per le macchie solari fino alle stelle più vecchie dove il tempo di vita medio delle macchie solari di circa qualche decina di giorni non state i punti siano pochi comunque un importante è un risultato piuttosto importante che dimostra come non solo l'attività magnetica ma anche il tempo di vita medio delle macchie in fotosfera diminuisce col tempo e anche per quest'oggi è tutto vi do appuntamento con le prossime video news di ricerca dell'osservatorio astronomico di palermo